Dall'unione di eccellenze italiane come Caffè Verniano, Lavazza e Costa d'Oro è nato Turen Coffee, il primo salone internazionale del caffè. Dal 9 all'11 giugno il popolo degli estimatori dell'Espresso e non solo si è dato appuntamento a Torino per degustare i prodotti delle torrefazioni locali, ma anche varietà più lontane. Nel capoluogo pimontese sono sorti i primi salotti dedicati alla bevanda e la permessa ha creato l'occasione per scoprire cosa si cela dietro un buon prodotto. Molti torinesi, spiega la sindaca Chiara Appendino, sono orgogliosi del fatto che la storia del caffè sia nata qui. Questa è un'edizione che vuole mettere al centro l'orgoglio e la tradizione. La rassegna si è trasformata in una miscela di aroma e cultura con veri e propri percorsi sensoriali e itinerari gastronomici. Eventi per tutti i gusti, a partire dall'incontro moderato dalla giornalista Rita Vecchio sulle ricette a base di caffè dello chef stellato Andrea Larossa, il caffè è un ingrediente molto interessante e di grande ispirazione. Nella cucina è sempre un modo di impreziosire un piatto. Al Turencoffi anche tanta solidarietà. Ai visitatori, infatti, è stata data la possibilità di partecipare alle attività di onlus come casauts, residenza di bambini e famiglie che incontrano la malattia, perché bere caffè è anche unione e condivisione.